Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, non lo so perchè si è messo due anni ad avviare il telefono perchè sto registrando il telefono Allora siamo a presenza in plano e guardate, allora sono le 23 e 23 di notte questo simulator for Clash Royale vediamo di che si tratta vediamo di che si tratta, non so come si sente l'audio eccoci qua vi ricordate il suono dell'arena 1? ed ecco qui il gioco ho trovato già queste carte vedete tutte quelle che si possono potenziare perchè non c'è i soldi per l'arena quindi vi faccio un bel cesto uh, cavana goblin è bello golden 66 di oro tutte le rare tutte le comuni tutte le comuni tutte le comuni e non c'è la reggindaria se la reggindaria è il proprio donna che può trovare quindi oro tutte le comuni tutte le comuni tutte le comuni tutte le comuni tutte le rare mancano ancora comuni e forse la epica no mai nella vita ah, vi devo far vedere una cosa aspettate un attimo tutti gli screenshot guardate ho trovato la epica nel baule quello la delle missioni mamma mia vi devo far vedere tutti gli screenshot non ci credete guardate tutto il risultato finale delle carte così a casa è uscita ma dato 76 di oro una torre bombardiera 8 pipistrelli e la epica non si sa dove è uscita mi credevo che o usciva un'altra rara o un'altra comune qui invece ho vinto contro uno di livello 7 vabbè qua invece ho fatto tre corone qua è quando ho dato fuoco alla cassa ma ho cancellato un po' di cose no ma che sto a zoomare qua ho vinto contro uno di livello 10 non si sa come ho fatto però non si è forte però non si è forte video sul canale video sul canale video sul canale perché sta uscendo il video sul canale quindi ho fatto questa cosa quindi ora vi faremo vedere un video per chi non l'ha visti e possiamo iniziare oggi siamo ancora qui a presentare e quello abbiamo per mescolare e quello abbiamo per mescolare sto a sclerare tantissimo iniziamo subito direi di iniziare eh direi di iniziare allora io conoscerei da una base di questo sapone lui inizierà da una base di questo sapone che è il mer e ne metterò 5 spettini sui spettini che si è stoppato Allora è molto dentro Allora Vado a prendere un po' che cosa Ah, questo sapone è intimo E lo vado a mettere Allora, mettiamo un pochino di giallo Ajax Per rimuovere lo sporco Mettine poco Se ne hai messi 10 litri Crema cifo per rimuovere lo sporco Andiamo avanti Che sta girando Ali E quindi per farlo colorare meglio Andiamo ad aggiungere il sapone bianco Poi il sapone Ehm Come si dice Ho scoperto che la crema Praticamente giravi Era giusto Giravi di nuovo Era aperto E' fortissima Io pensavo che era bugato il sapone Eppure questo si apriva così E' cramato con barba Possiamo pure andare un po' avanti Allora Poi Che ha giunto Questo va Il velo Sto aggiunto E' un'ici che state Come il reflex Poi l'ho andato a giungere Questo Che è così Che fanno da fa L'acca E poi Ho fermato E poi Lasciatevi un mi piace Se volete vedere Il video Di nuovo Le 3 di notte Però Giocando a Minecraft Vedo se ci devono essere Anche il mio video Nicola E noi ci vediamo Domani E noi ci vediamo E noi ci vediamo Sì Grazie a tutti